nel giorno del sabato santo la chiesa fa memoria del riposo di gesù nel sepolcro tutto tace di fronte alla morte e al dolore anche noi allora durante la giornata di sabato siamo invitati a vivere un tempo di silenzio e di raccoglimento lontani dalle distrazioni o dall'ansia di controllare le abituali notifiche questo ci aiuta a prepararci a vivere al meglio e più intensamente la veglia pasquale ogni storia d'amore è costellata da momenti speciali che arricchiscono la relazione alla vigilia di pasqua vogliamo ricordare quattro notti dell'umanità nelle quali dio ha manifestato la luce del suo amore e prepararci così ad accogliere la risurrezione che viene a illuminare le nostre vite possiamo sottolineare questo aspetto iniziando la preghiera nella penombra e accendendo gradualmente le luci della casa fino a illuminarla tutta se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare lacrime già domani un bacio di sole e assurderà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.